dai vediamo cosa sai fare adesso devo aspettare che rimane fisso la lamba di nave che vuol dire che l'ha preso il GPS? quando rimane fisso la lamba di nave perchè si sta agganciando i satelliti perchè l'orientamento lo vanno quando si fa tutto quanto il programma certo che ci fosse una massa di elettronica lì dopo no ci vuole la telemetria però adesso ho capito il tipo che devo prendere no no questo qua va bene aspetta che ci vorranno 20 secondi è una seconda che si aggancia tanto lo fotografiamo questo qui che marca hai detto? TX20 Gerson chiama TX? aspetta così stai sapendo che ci sono ah ma non ti preoccupare che ti metto su youtube così non ti preoccupare no 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 non stare a mettermi da nessuna parte aspetta che tanto ci vorrà prima di agganciare perchè è la prima volta è lui che è appassionato per youtube beh proprio mi fa incassare guarda che siamo in procinto di spesa beh fotografa fotografa c'ho la scatola a volte dopo da di lì fai l'appunto esatto ma quando parte? oh quanto ci mette qua con le gas si fa una telefonata devi agganciare i satelliti bella madonna sto satelliti vedi tre volte dopo 24 ore eh che mi giochi non è ci vuole proprio agganciare il suo centro ma vedi che sta più veloce lampeggia vedi quello rosso quando lampeggia i motori sono bloccati allora riesco a sbloccare ma devo tenerlo così non mi riesco fisso però il gps ancora lampeggia ma lo faccio volare qui in zona adesso si adesso perchè non c'è un gps agganciato adesso lui già sta riprendendo chiamata da carbovemento miragen chiamata da carbovemento miragen chiamata da carbovemento miragen chiamata da carbovemento miragen adesso non ci vuoi vedere ma diciamo a farlo ma abbiamo in realtà aspetta perchè voi sono in giro che hai di strappare di via ecco adesso la telecamera va imprima che si basso adesso l'ha imprima che si basso vediamo ad esempio adesso è andato con il numero di giandare adesso è andato con il giorno Cioè tu adesso poi se vieni giù, se gli dai un punto fisso che fa? Lui sta fermo? Un chilo, un chilo e due è così. Infatti non ha molta stabilità però. Eh ma per 12 euro. Ti saldi su quello? Eh adesso vado sull'icola. Perchè la difficoltà del drone è quello sta fermo. Adesso come sto? No, non c'è il telefono. Riesci a prenderlo tu ancora? Sì. Ma non perdi il segnale di quello? No. Adesso ho messo di nuovo modalità stabile. Vediamo. Ma che altesto può arrivare su? Eh. In alto. Fin dove arriva il segnale. Così è fermo adesso? Sì è fermo. Sta fermo. Diranno un UFO, un UFO. Faccio così. E lui fa tutto sto giocatore. Eh è lo stesso concetto identico delle cose. Lui sta tornando a casa. Quello buono del Phantom è identico. Perchè c'è il GPS che te lo fa portare qui. Sì sì. Però lui atterra pure eh. Senza fare niente. Falo atterrare. Sì. 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 Non viene giù? Non viene giù? Poi tra programmi eccetera. Ma avevano fatto un prodottivo di segnale. Non viene giù? Sì. 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 Sìtyerevole. Informatica. Grazie.